Ed ora la formula magica con grande gioia per tutti i tifosi vince il Festival dei Giovani, la sesta finale, la Canottieri Candi a 2010! Applausi inarrestabili per Raffaele Ronco! Ed è proprio Raffaele Ronco a raccontare ai nostri microfoni cosa è successo durante il percorso. Raffaele è riuscito a vincere, un applauso speciale per lui. Com'è stata questa gara? Faticosa, ho recuperato tutto nel passo gara. In partenza eri rimasto un po' indietro, il passo ti ha aiutato, ma come hai tenuto questo passo? Ho una certa respirazione e con l'ultimo della respirazione cerco di tenere il passo. Hai controllato alla grande, sei riuscito, una medaglia d'oro importante per te. A chi vogliamo dedicare questa medaglia d'oro? A mia sorella. Dov'è? A Cando Calese, a casa mia. Ma ci sta guardando magari in internet? Non credo. Come si chiama tua sorella? Luna. Alla sorella Luna, un abbraccio speciale! E tra l'altro mi hai ricordato che oggi è pure il compleanno di mia sorella, quindi sarà meglio che le mandi un messaggio. Complimenti e grazie ancora a Raffaele Ronco, Carottieri Candi a 2010! Ciao! 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 Grazie a tutti.